ragazzi praticamente mi hanno appena detto che c'è il barman del bar in fondo qui in questo posto che è la persona che lavora da più tempo di tutti proprio un personaggio praticamente storico del non so se si offende se dico una cosa del genere io intendo storico a livello lavorativo ovviamente non di età che lavora in questo posto e mi hanno detto che lui sa tutte le storie dei fantasmi della principessa sissi quindi sto andando lì curiosa per farmi raccontare e vediamo vediamo che cosa ci dice vi farò sapere sono molto curiosa quindi sto andando dal signor Ugo a fare praticamente un'intervista perché sarà un'intervista ecco abbiamo un voto davanti vi faccio sapere ragazzi buongiorno grazie a tutti per gli auguri vi faccio vedere dove sono io in un posto bellissimo per i miei meravigliosi 23 anni che bello allora mi state chiedendo se non ho freddo obiettivamente sono sincera se sono su dell'acqua o scusate ho un freddo cane in questo momento non mi sto sentendo le mani infatti per dire questa cosa ma se sono in acqua l'acqua è a 42 gradi 38 gradi è bollente si sta benissimo poi oggi una bellissimissima giornata e anche a farla apposta il giorno del mio compleanno mangia la neve ragazzi è un muso strano non è che non mi piace ma non mi convince guardate ha degli occhi strani però sembra buono ma ragazzi guardate che mi è venuta a fare gli auguri guardate cucciola non lo so noi stiamo andando a pranzi montagnola perché scappi sembra un turista tedesco si siamo un po due turisti stiamo andando in montagna questa è la situazione giù stiamo aspettando io sono in super mood montagna come potete ben vedere super montagnissima non scierò ovviamente ovviamente salute ragazzi devo dire che il freddo è stato tanto ma ne abbalza la pena ne abbalza veramente la pena eccolo qua un altro dei miei preferiti sempre quel concetto di bighini intero perché per chi non va al mare può utilizzarlo come body quanto è bello anche questo non 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 Grazie a tutti.